Tu ricordi brutti? No, non mi viene niente. Ci dobbiamo lasciare. Ma sei stupido? Bella, a me piace. La prendiamo? La prendiamo? La prendiamo? Dico a Dio. Sì. Quante cose però che abbiamo già vissuto servirbbe un'altra vita per ricordarsene tutte. Allora noi la prendiamo. No, non avremo più l'intimità che abbiamo adesso. A che pensi? A niente. Ti ricordo mente. Rene belle delle cose che non lo erano. Secondo me no. Alla fine le cose sono belle perché sai che finiscono. No, le cose sono meno belle perché c'è un gosciamo che finiranno. Basta, stai! Non lo sappiamo. Sapete qual è il primo lungometraggio della storia? The Story of the Kelly Gang del 1906 con i suoi 60 minuti di durata e 1350 metri di pellicola. Il film era la biografia del celebre bandito Ned Kelly. Invece l'anno migliore per il cinema italiano, sapete qual è? Si va indietro. Il 1913 con più di 800 film prodotti e distribuiti. Le cose sono un po' cambiate, sì. Vi ricordo che ci trovate anche su TikTok, potete seguirci anche lì e trovate il link qui sotto nell'info box. Ciao da Valeria.